Non ha problemi a lavorare con chi ha preso i voti di alterazione? No, io ho problemi a lavorare a chi dice sciocchezze, ho problemi a lavorare con chi non è una persona che è degna di essere subito nei posti perché dice cose che non vanno dette. Però sono problemi, ripeto, personali. Ho già detto più volte nelle interviste che io sono un antifascista, dichiarato. Chi l'ha definita come l'orso gli occhi? Lei cosa risponde? Beh, mi ha definito in tanti modi, anche il pinguino di Batman. Vedi che mi faccio sorridere, sono il più simpatico o no? Questo l'ha detto per l'asso. No, 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 l'han detto dei ragazzi. Questo sono stati carini. No, no, devo dire che queste cose non solo non mi preoccupano ma non mi toccano. L'importante è che quando ci si siede, soprattutto all'interno di un'istituzione, si lavora per la città di Milano. Questo è quello che vengo a fare per cinque anni e per i prossimi cinque anni. Il resto poco mi interessa, battute, scherzi. L'importante è essere persone serie, corrette, oneste, trasparenti, incorruttibili.